salve care e carissime benvenute e bentrovate eccoci qua siamo nel mio canale io sono Zaire sui tarocchi e questo è il mio nuovo interattivo di oggi ho deciso di fare un interattivo che ho fatto proprio al principio che ho aperto il canale più di tre anni fa all'incirca tre anni fa e che sono pure che questo insomma interattivo lo chiamai i quattro re ok quindi andremo ad analizzare una persona che voi avete nel vostro cuore oppure una persona di cui avete un interesse che vi piace potrebbe essere chiunque un fidanzato un marito un amante un amico un fratello un padre insomma chiunque voi vogliate analizzare ho scelto i quattro re perché voi vi avrete come indicazione i segni di appartenenza quindi se scegliete il re di bastoni saranno segni di fuoco quindi sagittario leone ariete se invece scegliete il re di spade avrà i segni di aria quindi gemelli bilancia acquario se invece scegliete i segni di terra con il re di denari sarà capricorno vergine toro ovviamente questi segni sia come segno di appartenenza ma anche come ascendente e poi se scegliete il re di coppe scorpione cancro e pesci ovviamente portandone anche l'ascendente per cui voi se sapete diciamo il segno zodiacale di questa persona lo scegliete per segno zodiacale volendo se sapete anche l'ascendente potete sceglierlo sia per segno zodiacale che per ascendente anche se l'ascendente è un altro re va bene lo stesso saranno altri aspetti di lui se invece non conoscete né l'ascendente né il segno zodiacale sceglierete questi quattro meravigliosi re proprio per la loro immagine ok per quello che rappresentano io ve li faccio vedere questo è il re di bastoni questo è il re di spade il re di denari così come vi sentite come vi piacciono come vi attraggono e il re di coppe allora ragazze io metterò i tempi relativi ad ogni re prenderò alcune di queste carte non tantissime ma abbastanza da poter analizzare questa persona quindi andremo ad analizzare questa persona chi è che situazione si evolverà con voi vediamo quello lasciamo libero alle carte di parlare voi pensate solo alla persona e vediamo le carte cosa ci diranno riguardo a questa persona quindi io inizio ovviamente faccio le varianti qui davanti a voi poi metterò i tempi per ciascun variante allora intanto con le carte blu poi voi potete andare direttamente ai tempi delle variante però io per onor del vero per onestà vi faccio le stè vi faccio le varianti proprio davanti a voi quindi questa sarà per la prima variante per la seconda quindi re di bastoni re di spade re di denari re di coppe adesso prendiamo anche queste carte qua e sono le carte della personalità quindi vedremo un aspetto della personalità di questa appunto persona poi prenderemo una carta questa è cosa vuole dirvi cosa c'è che vi nasconde che vi vuole dire che non vi dice insomma qualcosa una comunicazione di questa persona poi prenderemo quattro carte ho scelto per fare questa stesa i tarot quindi prenderemo quattro carte già vogliono parlare vedo che si girano ma io devo mischiarne un po e vediamo un po prenderemo quattro carte per ogni re quindi re di bastoni 4 carte 2 3 e 4 re di spade 1 2 3 e 4 re di denari 1 2 3 e 4 e infine re di coppe 1 2 3 e 4 poi con le mie carte 3 e 4 poi con le mie carte oracolari gli angeli del cuore sarà il consiglio finale per ogni re relativo appunto a questa stesa quindi il primo bastoni, spade, denari e coppe allora come vedete ho fatto qui la prima questa sarà la quarta variante quella del re di coppe ovviamente io vi preparo tutto davanti come sapete è mia consuetudine ma voi se non vi va di assistere alla scelta per correttezza io ve lo faccio tutto così di seguito potete anche andare dopo ai tempi relativi ok quindi ragazze ecco qua abbiamo i nostri quattro meravigliosi re ripeto sia per segno per ascendente potete scegliere più re se poi volete avete più persone potete scegliere per ogni persona per ogni simbologia di ogni re è chiaro? quindi io passo subito al primo re il re di bastoni eccomi qua benvenuti voi che avete scelto la prima variante quella abbinata al re di bastoni allora il re di bastoni abbiamo detto leone, ariete o sagittario è un re di fuoco nella diciamo spiegazione canonica dei tarocchi il re di bastoni è una persona che è un buon lavoratore una persona dedita al lavoro una brava persona, onesta per carità potreste averla incontrata nell'ambito lavorativo potrebbe essere un datore di lavoro con cui avete a che fare o un collaboratore oppure un socio in affari è sempre una persona che agisce molto d'impulso, un passionale quindi sia nel bene che nel male è un impulsivo, è un focoso una persona molto egoriferita molto capace cioè molto come dire consapevole delle proprie capacità quindi una persona che insomma gli piace essere al centro delle situazioni quindi parliamo di un segno di fuoco quindi qua arde proprio la passione del fuoco vediamo un aspetto della sua personalità ancora ha una buona posizione finanziaria quindi qua potrebbe sempre come ho detto prima essere una persona con cui avete a che fare a livello lavorativo vediamo cosa vorrebbe dirvi qual è la cosa che dice non voglio innamorarmi quindi qua sappiate che questa persona che voi state pensando con queste caratteristiche che ha una buona posizione finanziaria probabilmente potrebbe essere un datore di lavoro o un vostro superiore un capo ufficio insomma qualcosa oppure semplicemente una persona molto dedita al lavoro però non vuole innamorarsi vediamo ancora viene il fante di spade abbiamo la temperanza abbiamo il re di denari e abbiamo l'asso di spade questa la portiamo alla fine perché è il consiglio finale allora qui la prima parte ve l'ho bella che spiegata vedete qua esce anche un re di denari quindi la posizione vedete ha una buona posizione finanziaria la ribadisce questo è un re un uomo che ha potenza nel denaro è amante dei piaceri delle feste è amante del suo stare bene del suo vivere bene si deve sempre a tornare di cose belle belle macchine belle vestiti belle donne belle case belle vacanze insomma è una persona magari si è arricchito così in seconda battuta spesso può essere una persona che si fa da solo una persona che è molto efficiente ma magari nasce in posizioni diciamo finanziarie più basse e una persona potrebbe essere impegnata questo potrebbe essere anche una persona che ha sposato qualcuno per i soldi quindi potrebbe essere anche un re venale sotto questo punto di vista ora cosa viene fuori qua che non vuole innamorarsi di voi quindi qua stiamo parlando di una situazione sentimentale mi sembra di capire però vuole con voi il sesso perché qua c'è vigore sessuale ci sono azioni c'è questa voglia anche un po' a intermittenza però di avere la giustizia con voi questi atti l'atto proprio sessuale l'atto anche della gelosia perché questa persona ve l'ho detto è un passionale sia nel bene che nel male qua potrebbe anche avere ascendenti che hanno a che fare con il segno di terra comunque io a questa variante consiglio anche di andare a vedere l'altro re quello di denari eh anche se non è il suo ascendente perché ah è uscendo un altro re in questa stesa potrebbe essere ci potrebbero essere delle attinenze a re di denari questa persona vedete con voi vuole l'armonia vuole l'amore creativo vuole che voi accondiscendete a ciò che dice lui un po' vi manipola vuole che state belle tranquille e vuole fare un po' come gli pare questa è una persona da tenere a freno nel senso che è un po' infantile vedete perché sì è un re con i soldi è un re che sa fare il suo lavoro è un re magari impegnato insomma ha le sue caratteristiche però fondamentalmente poi qua vedete viene fuori come come una persona infantile immatura una persona meticolosa da tenere a freno una persona che può anche controllare io lo vedo un po' manipolativo nei vostri riguardi quindi questo è quello che mi viene fuori da questa variante per cui se voi avete pensato a questa persona mi viene tanto da pensare che voi avete una relazione con un uomo impegnato magari che ci lavorate pure per alcune non è per tutti però per alcuni potrebbe essere così una persona che vi spia vi controlla vuole fare sesso non vuole innamorarsi e vuole che voi state bella tranquilla lì ad aspettare che lui faccia un po' come gli pare ecco vediamo il consiglio per voi con le carte degli angeli del cuore è incredibile guardate qua cosa esce meriti amore quindi scusate si è mosso il crespolo quindi il consiglio per voi è un consiglio che insomma come posso dire lo capirebbe anche un un bimbo no? merita amore e voi state vivendo una situazione che non mi sembra tanto che siete gratificate perché qua abbiamo a che fare avete a che fare con una situazione in cui questa persona vi vuole dominare vuole il sesso vuole fare un po' come gli pare vi controlla vi fa vi dice però però non vuole innamorarsi fa un po' come gli pare è un po' prepotente mentre invece voi qua il consiglio che vi danno le carte vi dice ma tu meriti amore quindi gli angeli del cuore ti incitano alla ricerca del grande amore facendo di sapere che lo meriti quindi qua hai diritto voi avete diritto ad essere trattato con gentilezza con rispetto quindi qua state vivendo un'esperienza dolorosa per cui magari voi mi incolpate delle esperienze oppure mi incolpate questa persona mi fa anche sentire in colpa del fatto che voi ricercate di ricevere amore ma è giusto invece che voi dovete ricevere amore perché lo meritate questa carta ti rassicura dicendoti che merita amore come se lo meriti quindi sei una creatura meravigliosa e ti devi dare la tua giusta importanza più affermate sono degno di essere amato lo merito sono giusta sono giusto cioè più le affermazioni le farete e più vi aiuteranno a credere che questo è quello che vi meritate e non altro per cui se voi cambiate vi meriterete e vi attrarrete le persone che vorranno con voi delle relazioni e delle situazioni veramente ricche d'amore quindi questa era la prima variante ragazze riflettete ovviamente è sempre un interattivo collettivo per carità di dio per carità non vi fissate nelle domande se ci sono dei riscontri potete richiedere il consulto personale io sarò lieta di farlo se lo volete fare con me intanto vi invito a un like e a un'iscrizione se non l'avete ancora fatta così mi aiuterete a sostenere il canale un abbraccio di luce a voi prima variante ciao eccomi qua benvenuti voi seconda variante abbinato al re di spade come dicevo dalla diciamo dalla prefazione potete scegliere questo re di spade se questa persona fa parte dei segni d'aria quindi bilancia acquario gemelli o avere l'ascendente o semplicemente perché vi ha attratto questo questa figura questa energia quindi è fondamentale questo chi è il re di spade è una persona iperlogica una persona molto autorevole autoritaria è particolarmente governato dal segno della bilancia è una persona giusta equilibrata che non vuole mai far soffrire a nessuno ma tendenzialmente tende molto a predominare perché lui insomma ha la spada ha la sua autorità lui ha sempre ragione lui è l'uomo che non deve chiedere mai insomma è una energia molto predominante quindi avere a che fare con un re di spade non è facile perché vuole sempre avere l'ultima parola poi una persona che pensa ripensa con la mente insomma si fa tutte quelle puntate e mentali quindi insomma è un iperlogico con cui dovete avere a che fare può diventare anche pesante invece negli aspetti più diciamo belli è una persona che se si innamora si innamora per sempre rispetto alla propria partner tendenzialmente può essere fedele solo quando si innamora realmente se no potrebbe anche non esserlo andiamo a vedere una caratteristica è un po' bugiardo e infatti un po' potrebbe anche non esserlo se non è innamorato vediamo cosa vorrebbe dirvi un qualcosa un segnale non voglio legami adesso quindi questa persona è un po' bugiarda è così come ve l'ho spiegato in questo momento non vuole legami ora voi sapete io non ho fatto una domanda ben precisa voi scegliete il vostro re e vediamo le carte cosa ci raccontano di questa persona che in qualche modo voi avete a che fare e questo è quello che viene fuori abbiamo una papessa un 4 di denari e la regina di bastoni quindi qua c'è un triangolo e il 5 di coppe questa ve la faccio vedere alla fine perché è la carta praticamente del consiglio che vi danno gli angeli del cuore che sono le carte dell'amore intanto vi spiego un po' qua questa persona allora intanto questa persona vedete qui fa un doppio gioco eh voi siete la donna nascosta o potesse essere la regina di bastoni potrebbe essere la stessa energia che siete entrambe però io vi do un po' di variazioni poi voi vedete qual è quella che più vi si riscontra allora io qua posso dire che questa persona è un po' bugiarda e vi ha mentito riguardo a una sua situazione quindi lui vi dice a voi che non vuole legami ma perché perché un legame già ce l'ha è impegnato quindi voi siete la donna nascosta per cui questa persona vedete ha una buona stabilità vuole tenersi bene questa solidità di questa buona relazione che ha con la propria donna però non disdegna ovviamente con una bella regina di bastoni perché no abbiamo una donna molto attraente molto bella molto eh passionale quindi qua sicuramente c'è stato un legame un qualcosa che vi ha preso anche molto è anche lui molto preso anche se non vuole legami sicuramente qua credo che ci sia una situazione che in questo momento c'è uno stand by una separazione momentanea ci può essere una sorta di dispiacere di rimpianto per la fine di questa situazione quindi potreste essere voi che da donna con cervello quale siete avete allontanato questa persona con rimpianto con tristezza con dispiacere ci state male però avete fatto una scelta ponderata oppure potrebbe essere che questa persona a un certo punto ha fatto la sua scelta ha scelto la stabilità ha scelto diciamo la sua situazione ufficiale perché voi siete la donna nascosta e quindi ha dispiacere ha rimpianto ha tutto però insomma la situazione rimane per mane in questo modo ora potrebbe anche essere che siete voi la donna ufficiale e c'è un'altra questo poi a secondo del tipo di rapporto che avete avuto con questo re di spade vediamo un po' qual è il consiglio degli angeli del cuore vale la pena di aspettare quindi qui se c'è in atto il triangolo così come io vi dicevo le carte qui vi suggeriscono di analizzare un po' la situazione allora vedete questa carta dice il sincronismo divino è l'opera nella tua vita amorosa quindi se voi per esempio vi siete allontanato da questa persona perché appunto questa persona aveva un'altra donna l'avete scoperta oppure non vi dava abbastanza era una persona che non voleva legame era un po' bigiardo quindi comunque io da questa carta deduco che questo aveva due piedi in una scarpa diciamo così comunque questa carta vi dice che la relazione con la tua anima gemella perché qua sicuramente lo siete richiede pazienza perché ci sono coinvolti parecchi fattori quindi ci sono dei fattori che non danno questa vostra anima gemella vanno questi fattori al di là del suo controllo e di quello degli angeli così come la prontezza di entrambi al vero amore quindi questa carta aggiunge proprio per ricordarvi che vale la pena di aspettare di vivere questa relazione quindi in questo in questa situazione non vi dice di lasciare perdere anche se questa persona ha questi queste caratteristiche è un segno divino una legge universale sempre in azione quindi è ciò che l'anima sa prima ancora di quello che poi magari il cuore e la situazione prende quindi se cerchiamo però in questo caso vi dice anche se cerchiamo di imporre la nostra volontà e di forzare le cose perché devono accadere allora no perdiamo la sincronia con la natura e ci blocchiamo ok quindi dobbiamo invece inviare energia positiva e gli angeli che hanno sentito le vostre preghiere per l'anima gemella e hanno risposto stanno lavorando dietro le quinte per voi quindi se voi avete questo intuito che questa è la vostra anima gemella vale la pena di aspettare se voi sentite nonostante questa descrizione che non è delle migliori ma sentite questo forte legame questa è come l'intuito di un cane no? che ti guida e ti porta lungo il sendiero in cui vengono un po' il suo intuito il suo fiuto porta quindi cercate seguite il vostro intuito che confida in un disegno divino quindi qua in questa variante dovete aspettare cioè vi consigliano di aspettare poi dovete fare quello che vi pare c'è sempre libero arbitrio ovviamente lo dico anche per la seconda variante ragazze ragazzi tutti voi che mi seguite è un interattivo collettivo non vi fissate troppo sulle risposte approfondite se c'è qualche risconto con un consulto personale se lo volete fare con me trovate tutto nella descrizione del video però per carità cioè non andate troppo a fissarvi poi ovviamente vi invito a mettere un like e a scrivervi al canale se non l'avete ancora fatto cosicché mi aiuterete a diciamo a sostenere il canale per il momento io ho terminato grazie di avermi seguito e vi do appuntamento agli altri miei interattivi un abbraccio di luce dalla vostra Zaira ciao salve carissime benvenuti nella terza variante quella abbinata al re di pentacoli allora ovviamente per chi ha scelto questo re di pentacoli segni di terra capricorno vergine toro o portarne l'ascendente o semplicemente vi siete sentiti attratti da questa da questa bella faccia guardate quanto è bello questo biondo eh vichingo proprio allora vi spiego un po' chi è il re di denari il re di denari è una persona molto amante dei piaceri amante della bella vita una persona che è molto concentrata in se stesso quindi tutte le sue necessità le sue diciamo priorità vengono comunque al primo posto è una persona che è molto dedita al lavoro quindi sono sempre persone molto dotate lavorativamente magari di ottima posizione potrebbe essere o comunque anche se non hanno una posizione molto diciamo elevata ma sono dei grandi lavoratori che comunque non fanno mancare nulla e non manca nulla neanche a loro soprattutto a loro perché sono persone molto amanti delle cose belle belle donne belle macchine non so belle case belle vacanze tutto bello deve essere per il re di denari vediamo ancora un'altra caratteristica di questo re di denari ha un bel sorriso quindi un bel tipo bene vediamo cosa vorrebbe dirvi oppure qual è l'imprinting che avete con questa persona beh qua questa è una persona che è stata male potrebbe essere stata male per voi o potrebbe essere stato male per cose sue personali vediamo i tarocchi cosa ci dicono sapete in questo interattivo io ho detto scegliete un vostro re basandovi su una persona conosciuta però ho lasciato libero libero lascio libere le carte di dirmi cosa viene fuori da questo re quindi vediamo che storia ci raccontano la carta degli angeli del cuore la vediamo alla fine perché è il consiglio finale per voi cosa ci raccontano qui i tarocchi che questa persona probabilmente vi ha voltato le spalle qui ci sono stati dei conflitti perché comunque questa persona potrebbe avere un carattere molto irritabile una persona che è molto concentrata sulla ricchezza come vi ho detto prima che cerca troppo molto la stabilità potrebbe essere anche una persona che a volte si lascia andare impulsi aggressivi magari anche potrebbe avere il vizio oppure il piacere di bere un po' qualcosa in più e quindi sotto i frutti dell'alcol magari essere un po' aggressivo perché no una persona che fa introdurre delle persone nella sua vita quindi come se non avete a che fare solo con lui ma con tutto l'entourage che si trova intorno di fatto questa persona molto concentrata alla sua professione in questo momento quindi è prudente per quanto riguarda il resto della sua vita però è molto per gli affari per il denaro è un abile organizzatore una persona sicura di sé che tanto che fa tanto che dice deve arrivare alle sue diciamo ai suoi obiettivi è lento prudente è molto ambizioso quindi qua lo vedo una persona dedita molto al lavoro per cui questa persona ha respinto un po' la relazione con voi probabilmente per incompatibilità visto che ha questo caratterino oppure semplicemente perché è un uomo che respinge la sua felicità i suoi incontri vanno tutte a delusione perché è uno concentrato su se stesso e sul lavoro quindi non si dedica molto al sentimentalismo qua mi viene fuori questa situazione ovviamente io vi dico se voi vi dico scontrate andate avanti vedete se no scegliete un'altra variante perché a volte non sempre si ha l'intuito di scegliere la variante giusta anche se magari voi avete scelto questa variante perché il vostro lui è un segno di terra però non è detto che è la sua variante potrebbe anche essere una variante da scegliere ma un'altra potrebbe essere più pregna di significati in ogni caso andiamo a vedere cosa vi consigliano in questa situazione ok gli oracoli dell'amore di ritirarsi è tempo di staccarsi dal mondo ora però questa carta ritirarsi non significa che voi vi dovete ritirare dalla situazione ha un significato ben diverso che io adesso vi spiego proprio nei dettagli perché questa è la carta chiave perché è quella che proprio ci parla del consiglio di queste carte di queste oracoli qua dice è tempo di staccarsi dal mondo come vedete questa carta sembrerebbe una coppia vedete sembra che lei abbia un abito da sposa e lui è anche bello tutto ingravattato quindi qua ingiacchettato quindi qua gli angeli del cuore vedono che la tua vita amorosa potrebbe fiorire mentre passi del tempo da solo con il pa quindi come dire il consiglio che vi stanno dando gli angeli è cercate di cogliere il meglio dai tuoi sentimenti dalle tue relazioni se hai una relazione passare del tempo insieme lontano dagli altri cioè voi due da soli potrebbe essere importante per un livello successivo quindi questa persona probabilmente vi dedica poco tempo adesso qui potrebbe essere una situazione in cui voi vi siete allontanati magari perché ecco vi dedica poco tempo però vedete questa persona poi dal vostro allontanamento se siete state voi o anche se lui ha deciso di allontanarsi per dare priorità alla sua vita diciamo materiale però è stato male quindi qua è come se sentisse questa carta sentisse la necessità di indicarvi che dovete cercare di godervi una bella gita un ritiro una vacanza con questa persona se questa persona vi non siete non vi siete lasciati e c'è uno stand by così e vi propone di fare una vacanza andateci andateci se invece questa carta potrebbe anche indicare un imminente fidanzamento o qualcosa che vi potete conoscere diciamo così improvvisamente quindi diciamo che c'è una doppia valenza allora se voi avete una nuova relazione importante questa carta può indicare se siete single e state vivendo una relazione nuova dopo questa chiusura indica che conoscerete una persona dove vi potesse anche fidanzare se invece siete in relazione con questa persona ci sono degli alti e bassi vi dice allora vai tranquillo con questa persona cerca di passare più tempo insieme perché se passate più tempo insieme insieme la situazione diventa più stabile un'unione migliore ovviamente io do più per la questa spiegazione cioè che questa persona sa male per l'allontanamento e il consiglio è quello di ritirarsi per andare a passare dei momenti lontani staccarsi proprio dal mondo dovete convincere questa persona a staccare dal lavoro da tutti i suoi impegni da tutti i suoi grattacapi e magari passare con voi del tempo e in questo modo la relazione diventerà più importante potrebbe anche evolversi in una situazione stabile quindi ragazze ragazzi questo era la terza variante re di denari potete scegliere il re anche sull'ascendente quindi se questo però magari è dell'ascendente una notizia in più da aggiungere a quello del segno reale o viceversa perché a volte possiamo avere più dell'ascendente che del segno reale secondo di com'è il nostro piano astrale in ogni caso io ho terminato e vi ringrazio vi invito ovviamente a prendere sempre tutto con molta cautela se poi ci sono dei riscontri andate a fare il consulto personale che è l'unico che vi dà la garanzia di una risposta che è diretta solo e unicamente a voi vi invito a mettere un like se non l'avete ancora fatto e ad iscrivervi al canale così mi aiuterete a sostenere il mio canale e vi mando un abbraccio di luce appuntamento agli altri menti interattivi ciao eccomi qua benvenuti voi quarta e ultima variante abbinata al re di coppe re di coppe potete averlo scelto o perché questa persona è un segno di pesci cancro o scorpione o porta a questo ascendente o semplicemente perché vi è piaciuto questo bel tipo vedete questo bel mento squadrato questi occhi chiari questo questo sguardo un po' malinconico è però molto bello in ogni caso il re di coppe chi è? potrebbe essere una persona un amante ideale una persona che esprime molto a livello sentimentale che si innamora spesso perché è un sanguigno è uno che vive spesso delle forti emozioni dei forti innamoramenti potrebbe anche essere un buon padre potrebbe essere impegnato o volere col tempo farsi una famiglia è un segno molto ripeto emotivo emotivamente sempre cioè lui non vive quasi mai le passioni se non scatta un qualcosa di particolare quindi comunque è una persona che ci mette sempre il cuore ricordo che è l'unico re innamorato quindi già è una garanzia se questa persona è nella vostra vita insomma vediamo un po' un'altra caratteristica ama ballare quindi qua è una persona che ama ballare forse è un ballerino non lo so salsa tango swing dipende o comunque se magari non è un ballerino un provetto tale nel senso che gli piace andare nelle ballere e ballare vediamo questa è un po' la carta che ho scelto di qualcosa che lui sente o vuole dirvi o prova per voi qua dice vuole osare di più come sapete io non ho fatto una domanda ben precisa ho solo scelto i quattro re e poi faccio parlare le carte in maniera libera quindi vediamo cosa ci dice in maniera libera questa stesa sole mamma mia ragazze gli amanti l'innamoramento il carro oh la la qui abbiamo fatto bingo e la morte bellissima questa stesa questa carta che è il consiglio dei angeli del cuore per voi su questa stesa ve la leggo alla fine ragazze allora qui un re innamorato questo è poco ma è sicuro una caratteristica della sua personalità ama ballare e che bella cosa è bellissimo un uomo che ama ballare magari seppure bravo avete fatto bingo cos'è quella caratteristica quella cosa che vorrebbe dirvi quella cosa che sente verso di voi che vuole osare di più e infatti qua mi viene fuori l'apoteosi sole gli amanti carro morte quindi qua sicuramente c'è una rigenerazione un nuovo inizio una nuova situazione che si riapre totalmente rigenerata potrebbe anche essere che questa è una persona potrebbe e vi faccio le varie situazioni potrebbe essere una persona che avete già frequentato dove magari non all'inizio stava un po' sulle sue poi magari la situazione si è chiusa e adesso torna da voi che vuole osare di più vuole rigenerarsi vuole riaprire questa storia però in maniera totalmente diversa quindi ha buoni propositi i propositi sono quelli di una verità che si fa luce quindi qua è una felicità un'unione di sentimenti che viene proprio da questo nuovo innamoramento da questa scelta cioè un risveglio come se questa persona improvvisamente ha capito di essere per voi di essere preso molto da voi e di volere comunque che questa cosa insomma possa realizzarsi perché c'è anche il carro che ci parla di un matrimonio di un'unione in arrivo di una perché no di una persona che è lontana e ritorna nel caso in cui appunto ci sono proprio dei movimenti felici dei movimenti positivi quindi qua ci potrebbe essere come detto ho una persona del passato che ritorna completamente rigenerata adesso vuole usare di più e vi farà una proposta che proprio non potete rifiutare come nel film del padrino cioè questa proposta è irrifiutabile perché è bellissima un nuovo inizio bello movimentato con un'unione stabile con amore e con la chiarezza di volere questo oppure potrebbe essere che conoscete una persona che al momento sta un po' così sul chi va là ma ci sarà questo cambiamento repentino e vi chiederà tutto ciò che vi ho detto quindi potrebbe essere sia una persona del passato che una persona nuova vediamo il consiglio da qua capiamo molto eh mamma mia riconciliazione allora qui abbiamo la prova che è una persona del passato cioè comunque una persona che già avete conosciuto e avete frequentato quindi ci sarà un nuovo inizio con questa persona e proprio si parla di una riconciliazione quindi qua una persona del passato sta tornando nella tua vita quindi qua ci ha tagliato la testa al toro e io vi avevo dato anche quell'altra versione ma sembrerebbe che non c'è questa carta indica anche che un ex potrebbe ricomparire nuovamente nella tua vita appunto probabilmente sarà la prima persona a cui pensi eh lo scopo di questa riconciliazione sarà raggiungere la guarigione e chiudere col passato quindi capirai qualcosa di più di te e comprenderai con maggiore chiarezza come sono gli schemi della tua relazione in generale che ne so che responsabilità di ruolo hai giocato nello svolgimento del rapporto che cos'è che ti libera dal rancore e dal non so dal non perdonare infine le riconciliazioni consistono anche nella risoluzione delle questioni rimaste un po' in sospeso quindi questa carta può anche significare che è il momento di fare pace con se stessi con un familiare con una persona a cui eravamo molto legati insomma qui c'è proprio la guarigione che in generale aiuta la tua vita sentimentale quindi qua il consiglio è quello di perdonare se voi avete ancora qualche dubbio perché nella riconciliazione in questa carta è racchiuso tutto ciò che vi ho detto quindi è una bellissima assolutamente una bellissima stesa questa molto molto positiva quindi chapeau è a chi la scelta va bene quindi qua c'è una riconciliazione io spero che voi aspettate questa riconciliazione perché qua è una riconciliazione veramente seria questa persona vuole usare di più quindi io ho terminato vi ringrazio mi raccomando mettete un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto se volete una conferma che questa è la vostra avversione la situazione reale mi raccomando sempre approfondite con un consulto personale dove si parla esclusivamente di voi io vi saluto e vi ringrazio un abbraccio di luce dalla vostra Zaira ciao ciao